A prima firma della consigliera regionale del PD Alessandra Salvatore e cofirmata dai colleghi di partito la capogruppo Michela Fanelli e il consigliere Vittorino Facciolla, è stata depositata agli atti del Consiglio regionale del Molise una mozione a doppia destinazione, il presidente della regione con la sua giunta e la premier Giorgia Meloni. Proprio attraverso l'atto di indirizzo infatti si invitano Roberti e i suoi assessori a chiedere e ottenere dal capo del governo l'audizione di tutti i consiglieri regionali del Molise. Vi sono una serie di temi, dice la consigliera Salvatore, improcrastinabili e dai quali dipende la sopravvivenza del Molise. La mozione dettaglia le questioni che sono fondamentalmente quattro. Questione sanità, revoca del commissariamento e azzeramento del debito, il famoso decreto Molise, è giunto il momento che venga adottato. Questioni infrastrutture, non c'è più traccia di finanziamenti, o meglio non c'è mai stata traccia di finanziamenti per il raddoppio della Bifernina, siamo al palo con i lavori di elettrificazione della tratta di Sarnia-Campobasso, 150 milioni di euro del PNRR sulla tratta Termoli-Campobasso, non sappiamo se verranno impiegati e come. E poi c'è la questione fondamentale lavoro. L'80% in meno del fondo automotive significa per il Molise la spallata finale di un settore che è fondamentalmente trainante per l'intera regione, oltre alla questione gigafactory. Questi temi fondamentali uniti a quello della necessità di rivedere anche la quota di riparto delle risorse che vengono assegnate al Molise. Quello zero virgola non può essere sufficiente per noi, la nostra situazione è una situazione drammatica, occorrono interventi straordinari, occorre una mobilitazione straordinaria di tutto il Consiglio regionale. È necessario, ribadisce la Salvatore, la mobilitazione straordinaria di tutti i consiglieri regionali, senza distinzione di alcuna appartenenza politica. Ci sono degli interventi indispensabili, non più rinviabili, rispetto ai quali io credo, noi crediamo che tutto il Consiglio regionale sia d'accordo. Quindi può darsi che il Molise sia eccessivamente piccolo perché anche una filiera istituzionale possa funzionare. Ecco perché occorre questa mobilitazione straordinaria con tutti quanti i consiglieri. Noi confiniamo molto sul fatto che sarà una battaglia comune e trasversale per il Molise innanzitutto. La mozione potrebbe essere iscritta già all'ordine del giorno del Consiglio previsto per domani e nella medesima donanza potrebbe anche essere chiesta la immediata discussione. Diversamente l'atto verrà esaminato alla prossima riunione dell'Assemblea.